Ben trovati a questo nuovo filmato. Ci occuperemo dei comandi di editing, editing basico e editing un po' più avanzato. Quando si crea un nuovo schizzo, questi comandi possono far risparmiare molto tempo ed errori per il completamento dello schizzo stesso. Conoscerli ovviamente è importante quanto conoscere i comandi relativamente alle primitive disponibili, cioè agli ingredienti disponibili. Questi li possiamo vedere come gli strumenti necessari per completare uno schizzo di 2D. Cominciamo dal comando di trim taglia. Allora apriamo uno schizzo 2D sul piano XY, inquadriamolo frontalmente, costruiamoci due primitive. Io adesso faccio due linee, ma per semplicità, che in qualche maniera si taglino fra di loro, cioè si intersechino. Io non le ho vincolate, non le ho quotate, quindi sono completamente libere, sono due linee, 8 quote necessarie. Ma al di là del vincolarle, che non è necessario per quello che stiamo affrontando, quello che voglio fare è tirar via questo pezzettino, questo pezzettino in più e questo pezzettino in più, cioè quindi lasciare solo queste due, le due parti che, diciamo, formano l'angolo verso il basso. Allora, usare il comando trim è molto semplice perché lo lancio da qui, taglia e vedete che cambia la forma del cursore, se io vado, è una freccia con un più, se io vado, quindi c'è un comando selezionare la parte di curva da tagliare, se io vado su questa parte, lui mi fa vedere, mi evidenzia la parte che io taglierei, se è quella che mi serve, mi basta fare un click. Ovviamente se vado poi su questa, evidenzia la parte, un click e così ho risolto il mio taglio e diamo l'ok. Adesso torno un attimo indietro, vi faccio vedere un altro sistema di comando semplicissimo da utilizzare, vi faccio vedere un altro modo che è quello di lanciare il comando, poi schiacciare il tasto sinistro, vedete che sparisce, sembra sparire tutto e poi muoverlo a toccare le parti che io ho, quindi sto muovendo il mouse, vedete che lascia una leggera traccia verde, quando questa traccia verde va a toccare quella parte, tac, quella parte sparisce, questo è un taglio dinamico e qui lo stesso sparisce quella parte, quindi senza dover selezionare niente, semplicemente tenendo premuto il tasto sinistro viene effettuato al passaggio, quando viene toccata con quella linea verde, che è la traccia del mouse, quando la traccia del mouse tocca la linea, tac, viene fatta sparire. Ok, questo è il comando trim, comando estendi, allora supponiamo di avere questa linea, il risultato dei trim precedenti e questa altra linea, le due chiaramente hanno un punto in comune ma non so quale sia e non si toccano fra di loro, il comando estendi fa esattamente l'opposto di quello che fa il comando taglia, cioè estende l'entità che io seleziono fino all'intersezione con quello che c'è sullo schermo, le altre entità, per cui in questo caso se io vado a toccare questa, vedete, la estende fino all'intersezione, adesso qui non si vede chiaramente, con la linea di sinistra con questa linea qui, quindi adesso io estendo, estendo e vedete che ho ricostruito l'angolo che prima avevo solo, torno indietro un attimo, che prima avevo solo senza, con i suoi lati ma senza il punto dello spigolo, il punto di origine dell'angolo, quindi estendi, 1, 2, ok, anche estendi, torno indietro un attimo, può essere fatto come il taglia, il trim, quindi io seleziono il comando, poi vado sul piano di lavoro, il piano dello schizzo, clicco col tasto sinistro, vedete che parte una traccia verde, quando intercetto questa viene estesa, quando intercetto questa viene estesa, quindi senza dover selezionare, ma soltanto muovendo dinamica, muovendo il mouse, per andare a tagliare le entità che voglio estendere. Da ultimo il comando mirror, che qui si trova sulle serie, non sulla modifica, ma sulle serie, che è il comando specchia. Allora qui facciamoci qualcosa di pochino più sensato, esco, interrompiamo il comando estendi, facciamoci qualcosa di più sensato, da specchiare, potrebbe essere una cosa fatta così, un mezzo vaso, ok, adesso vediamo i vincoli, qualche vincolo, orizzontale, questo coincide, e questo punto è allineato con questo. Ok, mettiamo un paio di raggi di raccordo, qui sono senza quote, quindi speriamo di due basi, mi sa che è un po' tanto, un millimetro, tra questa e questa, poco, 5, 6, 8, tra questa e questa, troppo, vabbè, interveniamo con la modifica delle misure, 3, impugniamo anche questa distanza, 12, e cambiamo questo, facciamolo di 2, 2, 3, 12, perfetto. Abbiamo costruito questa specie di vaso, vogliamo completarlo, quindi questo sia l'allineamento di questi due punti, sia l'asse di simmetria, anche se non è vincolato e mancano altre quote, in pratica manca, allora, dove è l'origine, quindi sono due quote e poi manca la lunghezza di questo, la lunghezza di questo, la lunghezza di uno dei due, l'inclinazione, la stessa cosa, quindi mancano 4 dati, non ce ne può fregare di meno, adesso lo vogliamo specchiare rispetto a questa linea qui, allora, questa non è una linea d'asse, quindi me la devo costruire, il mirror si può fare rispetto a linee che costruisco, quindi linee geometriche che mi vado a costruire, linee che costruzioni geometriche, quindi linee di costruzione, può essere fatta rispetto agli assi, può essere fatta rispetto ad altri spigoli di oggetti che esistono, in questo schizzo ovviamente non c'è niente, scusate questo 2 così distante mi dà fastidio, vediamo se riesco a spostarlo, ok, non più di tanto, inquadriamo a tutto schermo, costruiamoci quindi con una linea di costruzione, quello che può essere lo specchio, la linea specchio, solido sistema, quindi io costruisco la mia linea geometrica, poi gli impongo di andare con questo punto qui e con questo punto qui, e abbiamo sempre 4 quote necessario perché non abbiamo fissato la figura, ma questa è perfettamente fissata, e ora ok, vado a fare il comando serie o specchio, seleziono che cosa? Tutto ciò che mi serve, che voglio specchiare, quindi seleziono queste 5 entità qui e poi come linea di riflessione seleziono questa linea qui, applica e fatto, vedete che adesso riaccendo i vincoli, questa linea che ha funzionato da linea di specchio ha vicino tutti i simboli del vincolo di simmetria e andando a portare il mouse su ognuno di questi simboli si vede che cosa è simmetrico, allora con questo primo simbolo sono simmetrici questi due punti qui, adesso non riesco a prendere, ok, con questo secondo, quei due punti lì e così via, quel punto, il centro degli archi 2, questi sono gli archi, questi sono il punto finale dell'arco 3, il punto iniziale dell'arco 3, il centro dell'arco 3 e l'arco 3, ok, sempre quattro quote necessarie perché sempre devo dare per la metà, per la prima metà due informazioni relative a dove si trova e dove all'origine e poi quelle due lunghezze che abbiamo detto, l'angolo, l'angolo, l'angolo che abbiamo detto, chiaramente la seconda parte, quella di destra, è completamente vincolata alla prima parte, per cui non aggiunge niente se mette a posto i vincoli della prima parte, lo schizzo rimane completato. E con ciò abbiamo visto i tre comandi più semplici e che si utilizzano di editing, basilari, che si utilizzano praticamente sempre. Adesso andremo a vedere cose sempre di editing, modifica, fatte con dei comandi un pochettino meno usati, ma anche se volete per certi versi, e sto pensando alle serie, più potenti. Una piccola curiosità prima di andare via, se io tento di accorciare questa quota, di riposizionarla, non c'è verso, l'unica cosa che riesco ad accorciare è quel pezzettino piccolo del leader, il leader fatto da due segmenti lineari, uno piccolo e uno grosso, e quello grosso che in sostanza alla fine occupa quasi un terzo dello spazio del disegno, non riesco a farlo. L'unica cosa che posso fare, o meglio, le cose che posso fare sono due. O prendo questo raggio, sarebbero anche tre a dire la verità, o prendo questo quota, e la faccio diventare una quota, la porto all'interno, eccolo qua, due, quindi anche qui posso fare la stessa identica cosa, non riuscirò mai a allungare la linea orizzontale, quindi accorciare la linea orizzontale, quindi la porto all'interno, o butto via questa quota, e la rifaccio con questa inquadratura, chiaramente, allora, guardate un attimo, se io butto via questa quota è una D0, D0, la cancello e rifaccio la quota all'esterno, la posso fare piccola, vedete, solo che diventate una D3, e non c'è verso, io qui posso anche scriverci D0, ma la D0 è stata eliminata, cioè non esiste più, io l'ho cancellata, e l'espressione non è valutabile, perché non esiste più quella dimensione, quindi, qui lasciamo due, ok, e quindi avendo cambiato rispetto, portandola all'interno, rimane una D0, cancellandole, rifacendola, cambia il nome della quota, diventa una D2, se non ricordo male, oppure la terza cosa, che è quella che ho già detto, affrontando le primitive raccordo e smusso, quando abbiamo parlato delle primitive di disegno, non fate raccordi e smussi sugli schizzi, raccordi e smussi sugli schizzi, rendono il disegno più, lo avevamo già detto, meno resistente, c'è un nome che adesso mi sfugge, comunque il file è più esposto a corrompersi, quindi, vedete che anche nelle quote hanno il loro problema, per cui evitate raccordi e smussi disegnati direttamente negli schizzi. Andiamo avanti, quello che vogliamo vedere sono i comandi di editing, cosiddetti avanzati, e partiamo da questi quattro comandi, sposta, copia, ruota, scala e allunga. Allora, funzionano tutti più o meno nello stesso modo, incominciamo a guardare con il comando sposta, lo lancio, si apre questa finestra, apriamola completamente, e allora, ci sono due operazioni, se la richiudo, che vanno subito fatte, e selezionare che cosa spostare, e selezionare da dove spostare. Allora, poi qui ci sono altre opzioni, distendi i vincoli, interrompi i vincoli geometrici. Incominciamo da, chiudiamo qui un attimo, da vedere di selezionare lo spostamento, spostamento, quindi, cosa faccio? Apro una finestra, seleziona, apro una finestra, e in questa maniera sposto tutto, oppure, ESC, apro una, clicco su un'entità, scusate, prima sposta, clicco su un'entità, e ho selezionato ESC, sposta, clicco su un'entità, e sposto solo su questa entità. Adesso devo dirgli da dove a dove, quindi, punto base, un punto qualsiasi, attenzione, la geometria che si sta modificando è vincolata ad altra geometria, rimuove tali vincoli, che cosa vuol dire? Che ho tentato di spostare questo lato, ma chiaramente questo lato non era possibile spostarlo, perché è vincolato, vedete, con una simmetria a questo di qua, ma soprattutto, qui ci sono delle tangenti, per cui non è possibile. L'unico modo per spostarlo è quello di rompere i vincoli, e se io gli dico così, riesco a farlo. Adesso gli dico no, rifaccio, e faccio ESC, adesso rifaccio il comando sposta. Prima di dire che voglio selezionare questo per essere spostato, gli dico che interrompo i vincoli, sempre. Allora, se interrompo i vincoli sempre, provate a selezionare, e poi vado a selezionare il punto, vedete che non mi dà nessun messaggio, perché io già nelle opzioni gli ho detto interrompi i vincoli geometrici. Chiaramente, anche qui, faccio un ESC, interrompo il comando, se ancora lo lancio, ancora gli dico che non voglio questa volta mai interrompere i vincoli geometrici, vado a selezionare questo, e poi gli dico il punto, da qui non c'è niente da fare, non mi fa fare niente, o meglio, me lo fa spostare, ma distrugge tutta la figura che non era vincolata completamente e quindi è fattibile. se fosse stata tutta vincolata non avrebbe fatto niente, quindi qui facciamo un bel andù per tornare alla figura di partenza. Quindi, sposta, ma anche copia, hanno questo, adesso li vediamo, hanno, distendi i vincoli delle quote, cioè se voglio spostare questo e voglio che sia più in alto e se non c'è la distensione di questo 12 vincolo della quota non me lo permetterà mai, quindi distendi sempre, distendi se non ci sono equazioni, non distendere mai, dammi un messaggio per capire quello che voglio fare. Poi il comando l'avete capito. Allora, seleziono tutto, tutto è da spostare, seleziono il punto di base, da qui e lo sposto di là e si è spostato tutto. Seleziono ancora lui, faccio una copia questa volta, seleziono il punto di base, da qui e lo sposto qui e vedete che ho fatto una copia. Che cosa succede se schiaccio input preciso? Viene mostrata questa, diciamo, linea del prompt dove posso infilare dei numeri per fare uno spostamento preciso. Non l'ho mai utilizzato perché poi in realtà gli oggetti si vincolano e poi comunque sposta, non si sposta quasi mai niente, si vincola nella posizione corretta. E anche qui ottimizza per selezione singola se invece di selezionare, non permette per esempio di selezionarli tutti, ma me ne fa solo selezionare uno. Comunque, quando ho finito il comando, clicco su fatto oppure lo interrompo per uscire. Facciamo undo, chiudiamo questa, facciamo undo, guardiamo il comando, facciamo undo ancora e lo riportiamo nella posizione corretta. Guardiamo il comando copia, simile, non ci sono, qui copia, se copio, non c'è problema con i vincoli, con i vincoli geometrici di quotatura, quindi non c'è quella parte sotto, ma qui siamo sempre nella stessa situazione, seleziona, seleziona da dove, a dove voglio andare, input preciso, stessa cosa, ottimizza per selezione, l'abbiamo già vista, appunti. Che cosa succede con appunti? Allora vediamo, seleziona tutta questa roba e schiacciamo appunti, fatto. Apparentemente non è successo niente, apro un altro file di parte, cancelliamo quello che c'è qui, apriamo lo schizzo, per l'editazione, cancelliamo quello che c'è qui e facciamo un bel incolla, tasto destro, incolla. Quella figura che avevo copiato qui nella clipboard, appunti, è disponibile in altri file e nello stesso file in altri schizzi per essere copiata. Quindi questo è un sistema per copiarsi delle parti di schizzo, degli schizzi completi, da uno schizzo dello stesso disegno a un altro o da uno schizzo di un disegno a uno schizzo di un altro disegno. Comando ruota. Comando ruota più o meno è come il comando sposta. Anche qui ci sarà la possibilità di distendere o meno e le varie opzioni per distendere o meno i vincoli delle quote e i vincoli geometrici. Qui c'è da selezionare cosa voglio ruotare, intorno a che punto e poi di che angolo ed eventualmente se voglio fare una copia. Per esempio seleziono deve essere bluette perché attenzione seleziono questo da ruotare, seleziono il punto centrale questo, la geometria è vincolata ad altra geometria, rimuovere altri vincoli? Sì. Facciamolo ruotare e vedete che lo trascino in tutte le posizioni possibili, immaginabili oppure posso scrivere l'angolo oppure posso scrivere l'angolo. Domanda, qui facciamo un ESC, che cosa mi impediva di ruotarlo liberamente? Perché c'era scritto sicuramente questo vincolo di verticalità o di allineamento, questo vincolo di orizzontalità con la rotazione vengono persi questi vincoli geometrici, per cui questo. Per cui se non distendo il vincolo geometrico proviamo a vedere se effettivamente sono questi. Allora, se io gli dico ruota, seleziono solito tutto, poi gli dico distendi, interrompi i vincoli geometrici, interrompi i vincoli geometrici sempre, quindi non darmi nessun messaggio, seleziono appunto questo e vedete che adesso senza darmi nessun messaggio mi permette di ruotarlo qui compaiono gli angoli poi se voglio ruotarlo to court non flaggo questo, se voglio ruotarlo facendone una copia flaggo anche questo, ottimizza per la selezione singola stesso mestiere ESC. Il comando scala, lanciamolo, stessa cosa, stessa finestrina, quindi seleziona l'entità rispetto a che punto e poi lo vedrete scalare con un fattore di scala o lo trascinate qui vedete il fattore input preciso se volete la lista delle coordinate ottimizza per selezione singola e al solito la possibilità o meno di distendere i vincoli sia delle quote che i geometrici se lasciate in questa situazione e non andate a toccare ogni volta messaggio mi dà un messaggio e voi gli dite sì voglio distenderlo o no non voglio distenderlo quindi decidete di volta in volta sull'operazione che volete fare senza dover prevedere prima che volete farlo oppure no io ve li ho solo mostrati per farvi capire come funzionavano quindi facciamo una scala seleziona selezioniamo con questa finestra mi ricordo che la finestra verso destra è include tutti questi selezioniamo il punto di scala questo quote esistenti eccetera eccetera limitano perché chiaramente ci sono dei valori 12 se scala cambiano gli dico sì distendi le quote e vedete che spostando si ha un ingrandimento un rimpicciolimento a seconda se mi muovo verso l'alto se mi muovo verso il basso o viceversa insomma trascinando rispetto a quel punto ottengo l'effetto e qui vedo contemporaneamente il fattore di scala chiaramente input e ottimizzazione funzionano nello stesso modo ESC l'ultimo è il comando allunga allora simile come inizio simile a queste due distensioni la possibilità di stendere con messaggi oppure sempre mag qualche l'è vediamo un attimo di usarlo quindi questo che cosa fa? allunga una parte dell'oggetto selezioniamolo in questo modo come abbiamo selezionato prima punto base questo finisce per diventare vedete un comando di nuovi perché avendolo selezionato tutto allunga una parte rispetto a un'altra parte dell'oggetto non esiste non si fa quindi chiudiamo un attimo non fermo restando che chiaramente input preciso ottimizza per selezione singola sono le stesse identiche cose e andiamo a selezionarle in maniera furba allora allunga lo prendo con una finestra non più che includere ma a tagliare e vado a tagliare vedete da destra verso sinistra fino a qui cioè queste qui le lascio ferme queste primitive qui le lascio ferme se ora prendo un punto e lo muovo a parte il fatto che dovrò togliere rilasciare distendere le quote e anche i vincoli se lo muovo vedete quello che succede quindi se lo muovo orizzontalmente ne ho allungato questa parte qui non è un comando che ho usato molto perché a dire la verità questo deforma gli oggetti in maniera stupida se io l'ho fatto simmetrico adesso non è più simmetrico quindi non ha molto senso se io voglio allungare questo oggetto qui in totale quello che faccio è esattamente un'altra cosa tanto più che non l'avevo ancora vincolato entro qua dentro e gli dico quota questa qui quanto era era 4 e 3 lo voglio più lungo 6 l'effetto è quello di aver allungato l'oggetto di quello che mi serviva quindi senza ricorrere al comando allunga ma avendo cambiato la quota e tra l'altro avendo mantenuto la simmetria tra la parte sinistra e la parte destra cosa che quel comando allunga o faccio due allunga lo allungo una volta di un'unità qui o di un'unità qui quindi li mantengo uguali ma ci lavoro io oppure allunga dove taglia la finestra a tagliare fa l'allungamento tra l'altro vincolando in questa maniera vi ricordate che erano 4 i gradi di libertà adesso avendo messo in chiaro che questo non era il valore che lui ci ha presentato dallo schizzo a mano ma avendogli dato il valore 6 i gradi di libertà sono diventati 1 e meno 3 anche perché anche questo sarà mantenuto la simmetria e sarà ancora vedete c'è l'aggiunta di questa quota e pervincolerà quindi accettala per crearle non parametrica e quindi sarà anche questo 6 ci sarà ancora da vincolare questo e ci sarà da vincolare la posizione di questo oggetto perché poi siano finite le 4 cose che dovevamo una l'abbiamo messa definendo questa lunghezza quindi l'allunga è un qualcosa che quasi mai io ho utilizzato c'è un'altra primitiva da vedere diciamo di editing tra il semplificato di editing ed è il dividi questo comando permette di dividere una primitiva ovviamente se questa primitiva non è intersecata da niente non funziona allora io chiamo il comando dividi e poi vado a cercare di dividere questa vedete è attivo il comando perché selezionare curva qui leggete in basso selezionare curva da dividere ma quella per lui non è divisibile non trova niente che lo interseca se adesso io blocco un attimo e faccio una linea facciamo una linea geometrica che interseca quella linea lì ok e rilancio il comando dividi allora subito ha beccato che c'è qualcosa che lo può dividere e mi dice il punto dove dividerlo questo è un comando che si usa in un editing molto avanzato per esempio con le spline per fare cose un po' particolari su questi piccoli oggetti getti schizzi così semplici in realtà non si usa quasi mai le serie rettangolari e circolari o pattern mi sembra in inglese rettangular pattern e circular pattern allora questi sono due comandi molto utili e molto usati perché capita spesso di costruire una parte di schizzo e di volerla replicare più volte oppure tutto lo schizzo e di volerlo replicare per fare uno schizzo globale quindi poi un'estrusione con più aree chiuse allora incominciamo a vedere il comando serie rettangolare dunque si presenta con questa finestra apriamola del tutto perché qui ci sono tre opzioni abbastanza importanti di cui dovremmo parlare diciamo che all'inizio il comando è abbastanza semplice da usare perché geometria è già selezionato si va a selezionare qui vede selezionare la geometria della serie io posso selezionare un singolo la parte dello schizzo che ho già disegnato fino adesso o posso selezionare tutto lo schizzo che ho già disegnato fino adesso adesso per l'esercizio per questa spiegazione lo faremo così selezionata la geometria devo incominciare a dirgli in che direzione ce ne ho due perché è un pattern rettangolare in che direzione voglio le repliche allora facciamolo adesso usando solo una direzione quindi io scelgo clicco su questa freccia e stabilisco la direzione posso stabilire la direzione andando a cliccare su una parte presente dello schizzo o andando a cliccare sì penso solo lì perché qui aspettate un attimo vediamo se no non me li fa prendere quindi su una parte dello schizzo se questa parte dello schizzo è orientata come serve a me per il pattern rettangolare allora supponiamo di fare una copia orizzontale va benissimo quindi seleziono questa direzione e ora posso invertirla vedete quello che mi fa vedere la copia perché io ho chiesto di fare solo due ricorrenze e a distanza 10 mm questi sono i default quindi girando l'asse posso flippando sull'asse posso invertire la direzione o verso destra o verso sinistra e poi andrò a sistemare il numero delle copie che voglio facciamone tre e la distanza fra una copia e l'altra nel momento in cui è il flag adattato non flaggato quindi 30 quindi a distanza 30 l'una dall'altra io faccio tre copie ottengo alla fine tre copie e do l'ok e ho costruito il mio e qui vedete la quota dei 30 famosi vediamo se riesco a portarla fuori e farvela vedere non è così semplice aspettate un attimo perché è eccola qua allora 30 vedete questa è la distanza che io ho impostato nella nella finestra per fare la serie rettangolare in questo caso lineare allora avessi voluto usare una qualsiasi altra direzione adesso faccio undo avessi voluto usare qualsiasi altra direzione nessun problema me la creo prima se non ce l'ho già me la creo prima per esempio con una linea di costruzione quindi faccio una linea nella direzione in cui voglio la copia sempre una sola direzione useremo adesso per iniziare e nel momento in cui per iniziare a parlare di questo comando e nel momento in cui lancio il comando seleziono come al solito tutta la mia geometria da da serializzare da ricopiare più volte vado a prendere la direzione e gli dico in questa direzione fisso la distanza fra uno e l'altro e lasciamo due tanto avete capito come funziona questo e quindi in questa direzione qui sempre il solito discorso posso flippare l'angolo allora annulla facciamola cancelliamo questo e facciamo una serie invece in due direzioni quindi rendo più piccolo questo rilancio il comando serie rettangolare geometria penso che poi sia anche comprensibile geometria come mi muoverò quindi prima direzione questa seconda direzione questa allora vediamo di ecco ingrandire in maniera da poter vedere la seconda direzione sistemiamo le distanze già vedete le quattro copie predisposte mettiamole a 30 in maniera da vederle tutte 30 30 30 ho 30 20 cioè le distanze sono differenti non devono essere lo stesso numero 30 20 questa volta do l'ok così vedete l'effetto finale del comando ho costruito la mia serie queste sono le due quote 30 30 e questa è l'altra 20 le due quote con cui ho facciamo andu con cui ho stabilito ho costruito le distanze tra i varie personaggi della serie tra i vari elementi della serie facciamo andu e torniamo a fare una serie rettangolare questa volta vediamo incominciamo a vedere l'utilizzo di questi flag in questo momento c'è associativa solo flaggato allora cominciamo a vedere sopprimi allora selezioniamo sempre questa selezioniamo sempre la direzione x la faccio in una direzione sola questa volta ne faccio 5 giriamo la direzione e le faccio a 25 no non mi bastano 30 però non dovevo schiacciare l'invio quindi perdono lo rifaccio andu allora serie tutto direzione questa 5 copie a distanza 30 apriamo e andiamo a flegare sopprimi a evidenziare sopprimi e gli dico che questa non la voglio la voglio sopprimare è un'istanza della serie che io non voglio vedere a questo punto do l'ok vedete che è presente nel disegno ma in realtà è come se non ci fosse non posso operarci Inventor l'ha lasciata lì gli ha cambiato la nascosta gli ha cambiato gli attributi di linea e non la farà usare per un eventuale concludi schizzo se voglio fare un'estrusione posso prendere questo profilo questo profilo questo profilo questo profilo questo profilo non c'è nello schizzo lo vedevo ma nel momento in cui vado a fare un comando per portare per costruire la feature solida non compare più adesso io annullo e torno allo schizzo anzi facciamo una cosa facciamo undo 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 ok abbiamo visto il comando sopprimi ora adattato geometria questa direzione questa tre adattato 30 attenti in 30 mette tre copie questo è l'adattato se tolgo adattato ritorniamo a quello che avevamo visto prima adattato ha tutto finito su 30 millimetri quindi se io adattato metto 4 avrò ancora più densa se tiro via l'adattato questo è l'effetto anche qui annullo chiaramente la stessa cosa succede se invece di avere una direzione ne ho due sia sopprimi che adattato fanno gli stessi lavori non più su una ma su tutte e due le direzioni quindi su una a due direzioni il sopprimi due a distanza 30 il sopprimi per esempio mi permette di dire che questa non la voglio che questa non la voglio e quindi se do l'ok vedrò una serie nello schizzo con due entità nascoste e se vado a concludi schizzo e vado a fare l'estrusione vedrò solo 6 sezioni da estrudere annulla 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 l'ultimo parametro che c'è rimasto da vedere è l'associatività allora se io adesso faccio prima faccio una serie e la faccio associativa quindi la facciamo una sola direzione questa sia la direzione 2 a distanza a distanza associativa ha cambiato quella dimensione adesso torno indietro elimino questa rifaccio una copia rettangolare una serie rettangolare la geometria l'ho scelta la direzione sia questa tolgo il flag di associatività metto 30 giro l'asse do l'ok e ora se io questa cambio 6 e metto 2 non è successo niente sulla serie sulla copia fatta con la serie a destra perché non è stata fatta con i flag di associatività quindi in sostanza le serie e questi tre parametri sono abbastanza importanti perché allora se ho lo spazio totale e so che ce ne devo mettere 5 devo usare l'adattato se voglio crearmi delle copie ma poi devono essere diverse fra loro devo togliere l'associatività se voglio fare 3 e poi lasciare un buco poi farne una quarta e devo usare i sopprimi quindi al di là di questi quattro parametri che servono per definire la serie e più altri più questi altri parametri che servono per definire la serie rettangolare serie lineare serie lineare insieme serie rettangolare questi tre flag sotto due flag e questa freccetta questa sopprimi questa possibilità questo comando mi servono per completare la serie secondo quello che io voglio fare le serie circolari facciamo un undo ok sono abbastanza simili perché hanno per questi tre parametri sopprimi associativa adattato ok e per la serie circolare vedete che l'adattato è fleggato di default quindi perché perché la serie circolare rispetto a un certo punto di una certa geometria quindi un certo asse un certo punto e una certa direzione punto e direzione permette di fare copie che ruotano attorno a quel punto quante un numero totale da mettere su un angolo totale adattato se io voglio un angolo assoluto e voglio tante copie su quell'angolo assoluto può succedere che sia il prodotto delle copie per l'angolo che ho scelto fra l'una e l'altra sia maggiore di 360 gradi e quindi avrò copie che vanno una sopra l'altra tutto lì adesso ne vediamo l'utilizzo facendo una serie quindi di questi tre parametri non parlerò nemmeno vi faccio vedere solo come si usa la serie circolare innanzitutto è una sola direzione e la direzione è un punto allora se voglio fare una serie rispetto a un punto mi serve un punto attorno a cui fare questa serie circolare quindi me lo costruisco sempre con una geometria di costruzione punto supponiamo di voler fare una serie attorno a questo punto ok costruito il punto rimpicciolisco un attimo in quadro e decido di fare una serie circolare vediamo di due e quindi questa è la geometria quindi l'intero schizzo questo è l'asse l'asse può essere un punto perché è chiaro che l'asse di rivoluzione in questo caso viene presso l'asse z che passa una parallela all'asse z che passa per questo e vedete 6 a 360 gradi l'effetto che fa se non fosse adattato non ne faccio nessuna cioè sono 6 tutte qua sopra allora facciamo 6 a 180 ne vedrete solo 2 avete adattato 1 e 1 a 2 e qui sopra ci sono 3 copie e qui sopra ci sono 3 copie se faccio l'adattato adesso ha poco senso a 180 6 a 180 adattato quello che faccio ruotando in un senso ruotando nell'altro è questo quindi l'adattato qui è quasi sempre utilizzato anche perché se non faccio l'adattato e faccio tante copie ritorno tolgo il flag ritorno ad avere 3 figure qui ne faccio 6 in totale a 180 quindi una originale 180 180 180 180 180 180 per 6 volte quindi qui 3 e qui 3 spero di essere stato chiaro nulla ok gli altri flag sulla associativa ai sopprimi non è il caso di parlarne la geometria abbiamo visto come si cambia il punto intorno a cui ruotare dovete crearvelo o ce lo avete in un schizzo per qualche altro motivo e l'asse può essere più o meno l'asse parallelo in questo caso perpendicolare al piano xy passante per quel punto quindi parallelo a più o meno l'asse z poi con queste due caselline qui inoltre che avete scelto la geometria stabilite quante ricorrenze e a che angolazione l'una dall'altra allora ultima cosa ripeto preferenze dello schizzo allora strumenti opzioni applicazione schizzo qui avete raccolto tutte le preferenze il settaggio delle preferenze da utilizzare ve lo lascio su per qualche secondo senza dover star lì tanto ne abbiamo già parlato per farvi vedere esattamente come lavoro io quindi l'unica cosa riapro i vincoli che non hanno è strano che io abbia la deduzione non c'ho distensione non ci deve essere deduzione ok ancora avvertire in caso di ipervincolo questa sempre non ci sono griglie le spline sono a norma poi quando parleremo di spline vedremo snap niente proiezioni automatiche via tutti gli automatismi gli oggetti quando li proietto ma non abbiamo ancora visto che cosa vuol dire devono essere geometrie di costruzione c'è un ridimensionamento automatico delle geometrie sulla quota iniziale e poi la visualizzazione esposta con l'input puntatore in coordinate cartesiane ok la visualizzazione esposta è quella che quando io applica quando io costruisco chiudi quando io costruisco torno sullo schizzo un attimo ce l'ho aperto torno qui quando io costruisco eccolo qua la visualizzazione esposta questa è quella che mi fa venire fuori la x e la y allora anche questo filmato è terminato spero che sia stato di vostro gradimento al solito se vi è piaciuto se lo ritenete utile soprattutto e se vi piace il canale mettete un mi piace sotto questo filmato grazie per l'ascolto al prossimo filmato